Ciao ragazzi, prima di incominciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e di lasciare un like quindi, buona visione 3, 2, 1 aiuto riprova riprova ce la posso fare, ce la faccio si ce l'ho fatta auguri, buon comple mese è da un mese che esisti grazie tanti auguri a te veni di qua grazie, cosa c'è dentro? aprilo lo chiamerò ciao ciao come state? come state? io sono il vostro solare di sani e oggi siamo in un nuovissimo video siccome a carnevale ho deciso di mettere questa bellissima maschera che mi son fatto io e questa bellissima scuola che mi son fatto io molto smonca però bellissima allo stesso tempo è bellissima ragazzi vabbè comunque togliamo la maschera fa 3, 2, 1 e riccomi ritornata normale dava fastidio tutta quella roba vabbè ho deciso di pubblicare comunque questo video anche se non abbiamo fatto in 30 like per due motivi il primo è perché l'altro ieri tizio ha fatto un mese auguri tizio buon comple mese e il secondo motivo è per accontentare tutti i miei iscritti con le loro idee ringrazierò BP che mi ha dato questa idea di fatto di far andare tizio sullo skateboard lo ringrazio tantissimo in questo episodio tizio ha trovato un portale ringrazio anche it's my name che mi ha dato l'idea del portale tizio trova questo portale che lo porta a fare un'avventura su uno skateboard all'inizio lui non sa neanche cosa mi sa lo skateboard lasciamo stare ma poi alla fine dei due tentativi al terzo ce la fa ce la fa con forza di volontà con tutto quello che volete con tutta la roba positiva che volete ma alla fine ce la fa e ricordatevi volere è potere ecco per il complimese gli ho voluto fare due sorprese come avete già visto ma io non so come chiamare il suo bel cagnolino la sua bella cagnolina dovrete deciderlo voi nella i ci saranno quattro nomi due da maschio e due da femmine lo dovrete decidere voi e lo scoprirete solo se schiacciate quella i quali saranno i nomi ok ah e a proposito di cani e skateboard guardate cosa c'è lì aspetta lì qua c'è un bellissimo cane su uno skateboard bellissimo esprime cani su uno skateboard ecco cosa esprime esprime cani su uno skateboard vabbè spero che il video vi sia piaciuto come al solito lasciate dei bellissimi pollicioni solari in su se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina condividete il video con i vostri amici datemi consigli nei commenti e idee anche e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi e ricordatevi che l'estate non è solo una stagione ma è anche uno stato d'animo as the bridges were falling down in the midst of endless time we have built along this line build our empire